Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti sul mio secondo canale Oggi finalmente vi faccio vedere la ricetta del pollo con le mandorle Che mi avete tanto tanto richiesto perché l'avete vista in un video cosa mangio in un giorno Quello che vi chiedete io ve lo faccio Lasciatemi un bel pollice in su e mangiamoci questo pollo alle mandorle Allora io ho già preparato il pollo Che come potete vedere l'ho tagliuzzato Questo è il pollo bio nono GM Mi raccomando nono GM è importante C'ho la farina integrale E adesso lo vado a impanare Ovviamente questa ricetta che vi faccio vedere è sana e light È una ricetta ovviamente healthy di questo pollo alle mandorle Perché comunque è molto leggera senza grassi Però comunque ugualmente è buonissima Allora per prima cosa Scaldo la padella integrante Il solito sistema di ungerla appunto per non fare troppo frittura Ungiamo e passiamo un tovagliolino Il pollo lo vado a infarinare Con un po' di farina integrale Che ovviamente è più sana e leggera Ecco qua Questa è la mia porzione 200 grammi di pollo circa Lo infarino bene 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 E la padella bella calda Vado a mettere il pollo E lo faccio proprio due minuti rosolare Pochissimo Ecco qua Vedete che lo faccio rosolare Pochissimo proprio E subito E subito Ci vado a versare Il mio latte di soia Un po' di latte di soia E poi per non mettere troppo e farlo un po' più leggero Ci metto anche un po' di acqua Un po' di latte di soia e un po' di acqua Abbasso la fiamma E copro con un coperchio Perché comunque il pollo avete visto Era praticamente crudo Quando ho aggiunto il latte Quindi faccio cuocere qualche minuto Nel frattempo prendo le mandorle E le riduco a lamelle Non proprio piccole Le faccio le taglio però così Cioè grossolanamente A far volare dappertutto Mentre il pollo finisce di cuocere Io vado ad aggiungere le mie mandorle Che appunto ho tagliato a pezzettini E come spezie per aromatizzare Vi consiglio Un po' di noce moscata Che ci sta benissimo La noce moscata proprio ci vuole Ci sta benissimo in questa ricetta Poi ci metto un po' di pepe Macinato Di pepe questo qua In grani Ci vuole Ecco qua Ovviamente non può mancare Il nostro sale rosa dell'Himalaya Ecco qua Quando si è tutto bello addensato Vedete? Posso seccare bene bene E poi lo verso nel piatto Et voilà Il nostro pollo alle mandorle è pronto Tutto cremosino Come avete visto Ho aggiunto Un bel cucchiaio di olio extravergine d'oliva A crudo Così è molto più sano Ed è buonissimo Questo è un piatto veramente buono Perché è ricco di grassi buoni Le mandorle fanno tanto tanto bene Io lo adoro Quindi il nostro piatto è finito Mi raccomando Se vi è piaciuto questo video Lasciatemi tanti pollici in su E fatemi sapere se lo provate Nei commenti Lasciatemi tante tante foto Taggatemi su Instagram Su Facebook Con le vostre foto di pollo alle mandorle Vi mando un bacio grande E buon appetito Yummy E buon appetito E buon appetito Ciao